Riparte anche il settore del wedding, finalmente il governo ha emanato il decreto a riaperture e con esso anche la data certa per la ripartenza dei matrimoni che è quella del 15 giugno. Quel rito un po' tenero, un po' goliardico del lancio del bouquet della sposa durante il ricevimento è salvo. Ripartono i matrimoni e feste annisse anche al chiuso dal 15 giugno, ma dovranno essere rispettate una serie di regole. Innanzitutto gli invitati dovranno avere il Covid Pass, ovvero un certificato verde che testimonia l'avvenuta vaccinazione anche solo della prima dose, almeno 15 giorni prima della cerimonia, la guarigione da Covid o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. A possederlo dovranno essere tutti gli invitati, sposi compresi. E ancora ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina sia negli ambienti interni che all'aperto nel momento in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone. Nessun tetto invece al numero degli invitati, che sarà dettato dalla grandezza degli spazi a disposizione. I tavoli saranno distanziati di almeno due metri l'uno dall'altro. Da dimenticare i classici assembramenti del passato al buffet, gli ospiti non potranno toccare il cibo e saranno serviti dai camerieri direttamente al tavolo. Tante le richieste arrivate i titolari delle varie location che hanno avuto conferme da tutti quegli sposi che fino ad oggi erano rimasti in stand by. I matrimoni sono stati praticamente tutti confermati, i nostri clienti hanno il piacere, hanno la voglia, hanno voglia di far festa, voglia di divertirsi, voglia finalmente di sposarsi ma soprattutto di vivere in maniera tutti assieme la loro festa, la festa più importante della loro vita. Ci siamo organizzati come sempre tenendole a alta comunque le precauzioni e noi siamo pronti ad accogliere nel nostro ristorante le nostre spose. Dal comitato tecnico scientifico che ha dettato le linee generali per le nozze arrivano indicazioni anche per il personale tecnico. I fotografi avranno l'obbligo di indossare sempre la mascherina nel momento in cui la distanza tra loro è inferiore al metro. I matrimoni precedenti già prenotati a quelle nuove si aggirano intorno tra i 20-30 matrimoni. La voglia di ricominciare c'è anche se ci sono delle piccole restrizioni comunque perché dobbiamo sempre rispettare delle normative che il governo ci ha imposto però ci sentiamo un pochino più liberi e un pochino più liberi proprio di ricominciare a lavorare. Bisogna avere pazienza se tutti facciamo il nostro piccolino anche in un gruppo grande diciamo a lavorare tutti. All'esterno si potrà ballare. Dentro il locale invece gli eventi con ballo in spazi interni andranno organizzati con tempistiche predefinite di circa 15 minuti. Insomma un settore che riparte nel rispetto di regole ben definite e che vedrà tornare in campo anche le wedding planner capaci di pianificare ogni minimo dettaglio per rendere il giorno degli sposi unico e speciale. Che cosa fa una wedding planner? Qual è il suo ruolo all'interno del matrimonio? Allora pianificare tutta l'organizzazione del matrimonio con i tempi, le tempistiche e soprattutto in questo periodo anche rispettando tutte le regole per il covid e cercare comunque di realizzare i sogni e tutte le richieste che vengono fatte dagli sposi. Allora pianificare tutta l'organizzazione del matrimonio con i tempi, 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 i tempi. Allora pianificare tutta l'organizzazione del matrimonio. Allora pianificare tutta l'organizzazione del matrimonio con i tempi, 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 i tempi